Un saluto a tutti qui da Varazze con tutta la squadra dei colleghi e evviva alla nostra filiale in questo rinnovamento. Bella iniziativa l'inaugurazione della nuova filiale del Comune di Varazze. Io rappresento l'amministrazione oggi qui, sono Laura Manna, l'assessore al bilancio. L'amministrazione è particolarmente vicina alle attività economiche, ci fa piacere e ci inorgoglisce che Carige abbia deciso di investire proprio sul nostro comune. Carige è particolarmente vicina e presente da tantissimi anni sul territorio, è la banca della Regione Liguria e quindi siamo pieni di orgoglio di questa scelta importante. Qua stiamo facendo una crema all'uovo in questo macchinario qua del 1870. Crema all'uovo vuol dire latte, panna, saccarosio, rossi d'uovo a cuocere e bucce di limone. Poi ho fatto per l'evento, che ce l'ho qua, ho fatto il 1483, che è il gusto della banca Carige, che è un fior di latte con cioccolato bianco e l'alga spirulina per dare un colore. Oggi è una giornata di festa, Varaz ospita Carige dal 1914, la filiale è stata riorganizzata, ci siamo rinnovati negli ambienti ma confermiamo con forza, con decisione, quello che è la nostra mission di vicinanza al territorio, di vicinanza alla comunità.